contro la Scagliarini dieci secondi per tirare palleggio arresto e tiro ben giocato i primi tre giorni con la fase a Gironi ora Virtus in attacco che quantomeno in questo terzo quarto ora tripla ora meno diciannove per Bologna da tre punti i rapini palla per Spagnolo Spagnolo ancora Spagnolo sbaglia però lo Spagnolo in questo caso rimbalzone di Inzosa tiro sbagliato la Spagnola ancora Inzosa i bolognesi lì sotto buona ora la penetrazione di Felipe Motta buono il giretiro buona la palla sotto canestro per Boceschi